Sono 400 in tutte le Marche, quasi 200 nella provincia di Pesero-Urbino, tra Marche Nord e Area Vasta 1, le figure sanitarie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Infatti, la Regione si deve ancora esprimere sulla proroga dei contratti in scadenza a fine anno. I dipendenti a tempo determinato si trovano dunque in una situazione di incertezza, dopo mesi di lavoro con carenza di personale, turni massacranti, riposi saltati e doppie notti. Senza dimenticare il duro lavoro svolto, sempre in prima linea, durante la pandemia, i sindacati di riferimento hanno già espresso dubbi, osservazioni e rimostranze. La Regione li ha convocati per il prossimo 8 novembre per avviare il confronto preventivo sulle future condizioni che verranno generate dai nuovi assetti. Infatti, dal 1 gennaio, l'azienda Marche Nord verrà incorporata nella nuova azienda sanitaria territoriale di Pesero-Urbino. Dalla Regione le direttive sono state di prorogare i contratti per i sanitari, infermieri e operatori sociosanitari, solamente fino al 31-12 del 22 appunto. Mentre invece, cosa anche preoccupante per gli amministrativi, il tutto si è concluso il 30 di settembre sempre di questo anno. Oltre a questo, che cosa vi preoccupa della riorganizzazione sanitaria in atto? Noi già adesso abbiamo il numero di posti letto per acuti, nettamente inferiore alla media nazionale e regionale. Quindi ci aspettiamo che le risorse vengano distribuite per anche far fronte a questa criticità che noi ci troviamo ad affrontare. E invece i sanitari potrebbero essere spostati nelle varie strutture della provincia? È una problematica importante in quanto i lavoratori si potrebbero trovare da un giorno all'altro a essere spostati da una sede all'altra con notevoli disagi sia per l'organizzazione familiare che ognuno ha che si è costruito in questi anni. Inoltre anche un dispendio economico in quanto spostarsi nella nostra provincia sappiamo che è molto ampia. Ad esempio da Pergola andare a Urbino sono tantissimi chilometri e questo creerà ancora di più un disagio. Altro tema da affrontare sarà quello delle stabilizzazioni che spetterebbero anche a molti dei lavoratori che hanno il contratto in scadenza il 31 dicembre. Parliamo di stabilizzazione ordinaria, quella che prevede i tre anni di servizio negli ultimi otto, ma anche la previsione della stabilizzazione per i lavoratori che hanno prestato servizio durante il periodo Covid che si riduce dai 30 mesi ai 18 mesi. Se questi due anni molto difficili hanno acquisito un'esperienza importante, sarebbe a nostro avviso giusto dargli il giusto riconoscimento. E di chi è la competenza? La competenza è dell'azienda sanitaria in questo caso. Se non otterremo delle risposte dalla regione, ovvero delle soluzioni dalla regione alle problematiche che stiamo affrontando, in accordo con i lavoratori avvieremo delle mobilitazioni e anche delle campagne di sensibilizzazione per i cittadini.